Potrebbe aprire al pubblico dopo anni di incuria e vicissitudini varie la cosiddetta città della musica pescara, darne notizie all'assessore comunale Alfredo Cremonese che si rivolge proprio ai cittadini. Intanto il messaggio che mi sento di rivolgere a tutti i pescaresi è quello di far sapere loro che si stanno facendo i lavori alla città della musica. Quindi questo è quello che riguarda il messaggio che dà l'amministrazione ed è quello che ci compete perché noi ci siamo insediati da soltanto due anni e purtroppo col covid abbiamo avuto anche molti appalti che si sono dovuti inevitabilmente fermare. Attualmente la situazione è che su quel plesso esistono due appalti, un appalto che riguarda l'arredamento della città della musica e un appalto che riguarda l'ampliamento della città della musica. Sono due appalti che sono in esecuzione, noi andiamo a controllare che i lavori si svolgano correttamente e in tempi celeri e quindi speriamo il prima possibile di riconsegnare quest'opera alla città di Pescara. Parliamo di tempi e azzardiamo i tempi se non ci sono intoppi naturalmente. Ma i tempi, noi abbiamo chiesto alle imprese il tempo più breve possibile per la riconsegna, tanto è vero che l'amministrazione sta già pensando al cosa fare di quella città della musica. Abbiamo già iniziato a dialogare con dei privati perché noi crediamo tantissimo nella gestione pubblico privato e già si sente già qualche indiscrezione perché si parla addirittura di fare lì la città del cinema. Insomma l'amministrazione ha le idee molto chiare, sta già lavorando non solo per controllare che si svolgano regolarmente, correttamente e nel più breve tempo possibile i lavori che riguardano la città della musica, ma noi abbiamo già iniziato a pensare al dopo e proprio per questo motivo insieme al sindaco, insieme agli altri assessori, insieme alla giunta stiamo dialogando con dei privati affinché l'idea migliore possa essere presa in considerazione per una gestione all'avanguardia di quello spazio. Entro il 2022? Noi ci auguriamo sinceramente anche prima perché siamo un'amministrazione che lavora ogni giorno e ogni giorno abbiamo un sindaco che è presente ovunque e gli assessori che sono sempre a lavoro.